Benvenuti e benvenute, sono Greenbanship, siamo al sesto episodio di TheReval.ex. Dunque, nello scorso episodio eravamo usciti dal sistema Limbo e dovevamo accedere al Deep System. Limbo, Deep. All'interno di Limbo c'è un'altra cartella, Deep, benissimo. Gioco a livello. Allora, devi swipe, cioè passa il dito sullo schermo per muoverti. Allora, sei nel sistema in cui ci si trovano... Allora, sei all'interno del Deep System. Yanna potrebbe nascondersi qui, va bene. Però, qui cosa succede? Ok. Dobbiamo fare così, bene. E adesso? Se mi sposto... come faccio? Eh vabbè, ero in trappola, ero in trappola. Riproviamo. Ah, ma posso comunque... Ah beh, allora ragazzi, non potevate dirlo subito. Così... Ok, adesso prendiamo le cose... Perfetto, dovremmo esserci. Ok. Punto di salvataggio. Cos'è questa roba? Bene. C'è un mostriciattolo che ci ha sfiorato. Ma te ne puoi anche andare. Dispettoso. Ok, bene. Questo chi è tuo fratello? Sì. Dobbiamo avere il giusto timing. Bene. Allora, stessa cosa di prima. Dobbiamo avere il giusto tempismo. Benissimo. 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 Punto di salvataggio. Olè. No, qui in due. Eh, vabbè. No, ce ne serve. Dovevamo... Dobbiamo essere in due perché altrimenti il mostriciattolo che c'è davanti all'uscita non lo superiamo. C'è niente da fare. Forza e coraggio. Ma... Se faccio così... È più facile muoverli entrambi. Secondo voi ne muore solo uno quando tocco il... Quando tocco questo mostriciattolo? No, giustamente muoiono entrambi. Rifacciamo. Allora. Ok. Benissimo. Il mostriciattolo è andato. Ora dobbiamo fare in modo di... Arrivare là. Ok. Dobbiamo raggiungere la pietra tombale. Benissimo. Abbiamo un checkpoint. Un checkpoint. Ok. Verso il basso. Adesso... Così. Non so se è una buona idea però. Beh, l'importante è che... Ok. Abbiamo superato il punto. Dev note. Dev note. Ho creato... Ho programmato... Quest'arma... A ruota... Per te. Ok. Quindi quella è un'arma. L'ha creata Dev. L'ha creata per noi. Che l'ho anche presa. Abbiamo una mitragliatrice. Ce la facciamo a far così? Sì. Sì. Mamma mia. Pensavo che ci avrebbe ridotto in coltiglia. Ma invece no. Eccola. Non dobbiamo farci toccare dai suoi proiettili. Aspetta a te che devo riuscire piano. Cioè piano. Veloce. Non farti toccare nel senso. Veloce. Ecco. Ma... Come ho fatto a schivare i due proiettili poco fa? Non lo so. Ma quanti punti vita ha? Oh. Meno male. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo sconfitta. Però ci sono ancora i proiettili che vagano. Non vorrei colpirne uno. Preferirei evitare. Comunque ragazzi. Il video per oggi termina qui. Proseguiamo nella prossima puntata. Io vi ringrazio per avermi seguito. Iscrivetevi al canale. Mettetemi un bel mi piace. Commentate e condividete. Andate a fare un giretto sui miei social. Trovate come sempre i link in basso in descrizione. Fate i bravi e noi ci vediamo più avanti con un nuovissimo video. Buon proseguimento a tutti. Scrivetevi al canale.